Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo un volume importante, oltre 250 pagine. Il titolo è Elettronica illustrata, l'autore è Paolo Di Leo e l'editore è Libri Sandit. È un maker book, un libro per chi fa cose, imparare l'elettronica in modo pratico e anche coinvolgente e divertente. Vediamo alcuni contenuti di questo libro. Elettronica illustrata, un libro per imparare l'elettronica in modo pratico. Buona visione del video e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie. 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 Grazie.